È da tempo che molti di voi mi chiedono Pietro, ma in che azienda italiana possiamo investire? Oppure ancora, perché non parli mai di aziende italiane? Forse investire nel mercato italiano è poco conveniente? La mia risposta a queste domande è Io nel mercato italiano ci investo molto poco Mi è capitato di investirci e quelle volte che l'ho fatto sono stato anche molto contento di averlo fatto però è una cosa che mi capita abbastanza raramente infatti non mi capita spesso di trovarmi ad analizzare o anche solo a cercare aziende italiane Ma come mai? Beh, i motivi ci sono e ve li dico ma prima, come al solito, sigla! Benvenuti a tutti in questo nuovo video io sono Pietro e iniziamo subito con il toglierci questo fastidioso sassolino dalla scarpa Togliamoci subito il pensiero che si debba investire in Italia per orgoglio nazionale o per nazionalismo o cose simili Ognuno di noi che è residente in Italia paga le tasse in Italia e anche tante io ne sono la prova e quindi da questo punto di vista il nostro dovere di bravi cittadini l'abbiamo fatto Investire invece è un'attività che si fa per ottenere dei rendimenti rendimenti che devono essere commisurati a un rischio è un'attività quindi che si fa per guadagnare e queste valutazioni devono essere prettamente economiche non ci devono essere considerazioni del tipo lo faccio per il bene del paese, per un bene superiore o cose simili tutte quelle cose sono bellissime a mio avviso dovreste farle nella vostra esistenza ma non con il vostro portafoglio di investimenti io sono un investitore e faccio le mie scelte che sono appunto economiche che mi portano alla fine a preferire molto poco l'esposizione al mercato italiano molti invece considerano la vicinanza fisica al proprio paese quasi un vantaggio da sfruttare perché conosciamo meglio determinate aziende riusciamo a individuarne di migliori e addirittura magari riusciamo a capire delle dinamiche che investitori esteri non sono in grado di capire sinceramente credo che possa essere così ma solo in una minuscola parte e che quindi questo non possa guidare le nostre scelte di investimento e anzi tra pochissimo vi farò vedere che investire in Italia presenta delle criticità non da poco ma partiamo subito con una panoramica generale del mercato e dell'economia italiana ciò che deve fare un investitore come sapete è basarsi sui dati attuali e per creare delle stime sul futuro e sulla base di queste fare gli investimenti più adatti bene saprete sicuramente meglio di me come sta andando l'economia italiana negli ultimi anni anzi diciamo negli ultimi decenni ma analizziamola lo stesso come potete vedere il grafico rappresenta il PIL italiano dal 2008 fino ad oggi fermo, stagnante, deprimente escludendo la crisi covid infatti potete notare subito come l'economia italiana negli ultimi 13 anni si è rimasta pressoché costante e le prospettive di crescita future non sono da meno ogni anno sentite che ci si esalta sulla base di 0,1% di crescite si dice wow figo stiamo crescendo se non fosse che magari quelli lì sono pure errori statistici ma vabbè giusto per fare un confronto con un'altra economia sviluppata gli Stati Uniti crescono mediamente a un ritmo del 2% annuo per quanto riguarda il PIL 2 contro 0 è un po' grande la differenza e sono noti anche tutti i problemi strutturali del nostro paese un welfare figlio degli anni d'oro che costa ogni anno allo stato miliardi e che non accenna sicuramente a diminuire lo squilibrio nord-sud incredibilmente grave che tiene fermo una parte del paese un sistema giuridico lento che rallenta le imprese e la competitività delle imprese sul territorio e infine le aziende in un paese che non cresce fanno ovviamente anche loro fatica a crescere ma a proposito di imprese entriamo un po' più nel dettaglio delle aziende l'Italia ha un sistema di aziende nazionale composto principalmente da piccole e medie imprese o addirittura micro imprese l'80% delle aziende in Italia sono piccole e medie imprese il che le rende purtroppo meno competitive rispetto ad altre ma parliamo di dati secondo l'Istat infatti in Italia ci sono solo 4000 aziende con più di 250 dipendenti e 4 milioni di micro imprese quindi tra 0 e 9 dipendenti è storica infatti è riconosciuta la tendenza delle aziende italiane spesso addirittura a conduzione familiare a non espandersi a rimanere piccole per paura di perdere i valori della famiglia o cose simili il risultato però qual è? perdere piano piano la competitività rispetto ad aziende magari estere che invece cercano di scalare di raggiungere dei livelli molto più alti rispetto alle nostre mi vengono in mente per esempio le aziende tedesche senza andare troppo lontano nel mercato tedesco proprio nel mercato azionario infatti c'è molta più probabilità di trovare aziende quotate interessanti il problema poi è legato anche alla composizione delle aziende quotate in Italia il mercato borsistico italiano è composto prevalentemente da settori a bassa crescita mi vengono in mente soprattutto quello finanziario e quello delle utilities quindi di servizi pubblici e sono entrambi i settori che sfruttano molto la leva finanziaria e operativa in altre parole aggiungono del rischio a questa attività e inoltre sono settori che di base negli anni tendono a crescere poco o niente guardiamo il titolo di Unicredit per esempio a fine 2007 il suo prezzo ha avuto un massimo di 255 dal crollo del 2008 fino ad oggi il titolo ha continuato a perdere fino ad arrivare agli 11 di oggi pessimo un po' meglio intesa San Paolo che è passata dai 6 ai 2 euro per titolo ma comunque decisamente non bene non è un caso infatti che in Italia ci sia il fenomeno dell'investitore cassettista quindi qualcuno che investe in un'azienda solamente per ricevere tutto l'utile in dividendi non aspettandosi da questi dividendi una crescita ma semplicemente di ricevere quel 6, 7, magari anche 8% di cedola ogni anno quasi come fosse un'obbligazione cosa effettivamente sensata se hai più di 60 anni un po' meno se ne hai 20 e vuoi far crescere il tuo capitale altra cosa da tenere in considerazione dal punto di vista delle aziende sono i multipli bassi l'Italia infatti ha tipicamente dei multipli più bassi rispetto ad altre economie e molti di voi in questo momento staranno pensando figo posso comprare la stessa azienda in Italia a multipli più bassi rispetto ad esempio alla stessa azienda negli Stati Uniti certo questo può essere un vantaggio per noi investitori un po' meno per le aziende quando i multipli sono bassi infatti la borsa diventa meno interessante per le aziende che quindi sono meno incentivate a utilizzarla ma facciamo un esempio semplice giusto per spiegare il concetto immaginiamoci un'azienda che faccia 100 milioni di utile con determinate prospettive di crescita, rischio eccetera eccetera se questa azienda fosse italiana potrebbe avere un PE diciamo di 20 e quindi si cuoterà a circa 2 miliardi immaginiamo che l'azienda abbia venduto nell'IPO il 10% delle proprie azioni beh allora parliamo di 200 milioni negli Stati Uniti però questa stessa azienda potrebbe quotarsi a 3 miliardi di valutazione se vende il 10% di azioni potrà arrivare a raccogliere all'IPO 300 milioni che è il 50% in più e sono 100 milioni oltre ad essere il 50% in più non è poca questa differenza soprattutto per aziende che si trovano nella prima fase quella in cui devono scalare e che hanno bisogno di capitali possibilmente economici ricordiamoci infatti una cosa a cosa serve la borsa? a finanziarsi e generalmente per questo motivo ma anche un po' per un discorso culturale la borsa viene poco scelta come mezzo di finanziamento in Italia e si tende invece a preferire il debito negli Stati Uniti per esempio ormai sta diventando la scelta più ovvia quotarsi in borsa anche se le aziende sono molto piccole e magari nella primissima fase quasi addirittura delle start-up in Italia invece si preferisce utilizzare dei mezzi come il finanziamento tramite dei mutui le obbligazioni, delle obbligazioni private, dei round di private equity addirittura peer-to-peer lending o crowdfunding in certi casi ma non si pensa subito alla borsa in generale se vogliamo parlare in termini tecnici c'è una preferenza a scegliere il debito rispetto all'equity per questo motivo capita spesso che molte aziende di qualità davvero fantastiche non siano quotate mi vengono per esempio in mente Ferrero, Esselunga, Barilla, Italy, Sisal e mi viene pure in mente Ima che avevo in portafoglio fino a quando non è stata purtroppo delistata ma oltre a questi discorsi che sono abbastanza generici e si possono applicare più o meno a chiunque c'è un altro motivo per cui io, Pietro, non investo in Italia o meglio, investo molto poco io vivo in Italia ma soprattutto ho un'attività imprenditoriale in Italia e quindi i miei guadagni sono in qualche modo legati direttamente all'andamento dell'economia italiana se infatti domani una crisi terribile dovesse colpire l'Italia probabilmente anche la mia azienda finirebbe per guadagnare meno e lo stesso però farebbe la borsa investire in Italia quindi nel mio caso rappresenterebbe un duplice rischio e mi sovraesporrei perché in un'eventuale crisi andrei a perdere sia con la mia azienda sia in portafoglio, magari con le aziende in cui ho investito vi faccio un altro esempio per uscire dai nostri confini fino al 1990 circa il Giappone era un'economia incredibilmente florida c'è stato il boom delle aziende giapponesi c'era ottimismo e gli investitori giapponesi fecero proprio questo errore investirono tantissimo nei propri titoli nella propria economia quotata in borsa fino a quando purtroppo il Giappone è stato colpito da una terribile crisi finanziaria e quindi gli investitori che avevano investito in Sony o cose del genere si sono ritrovati una doppia perdita sia quella magari del loro lavoro che avevano perso sia pure la perdita in portafoglio quindi oltre al danno la beffa un'eccezione ovviamente si può fare e parlo di tutte quelle aziende che sì sono italiane ma magari vendono molto all'estero in questo modo il successo di queste aziende non è legato solamente all'economia italiana al 100% perché magari in Italia generano il 5 il 10% del fatturato ce ne sono di aziende buone italiane che esportano però bisogna trovare non solo quelle buone ma quelle ottime siccome però la speranza è l'ultima a morire cerchiamo un attimo di immaginarci anche quale potrebbe essere uno dei recenti vantaggi dell'investire in Italia come ho già detto infatti io né odio particolarmente il mercato italiano né rinuncio all'idea di investirci proprio a prescindere dipende semplicemente dalle opportunità e un investitore deve essere in grado di guardare al futuro e chiedersi che opportunità ci sono oggi per riuscire a cavalcare trend futuri come molti sapranno l'Unione Europea a seguito del crollo dell'economia dovuto al covid nell'ultimo anno ha stanziato dei fondi per i paesi membri all'Italia sono stati assegnati 191 miliardi di cui 70 in sovvenzione a fondo perduto parliamo insomma di oltre il 10% del PIL sotto forma di finanziamenti che ora l'Italia può utilizzare tramite il PNRR le aree in cui il governo dovrà impegnarsi ad investire questi fondi spaziano dalla digitalizzazione alla transizione ecologica e il lato positivo è che l'utilizzo di questi fondi verrà costantemente monitorato dalle autorità europee e se questi fondi dovessero essere investiti male arriverà un richiamo magari ma se dovessero essere investiti bene beh allora ci saranno sicuramente aziende che riusciranno ad infilarsi in questo panorama e a beneficiare di tutti questi investimenti insomma la situazione attuale è un po' questa potremmo vedere dei cambiamenti effettivamente negli anni successivi ma è importante che le aziende che guardiamo italiane soddisfino tutti i requisiti che abbiamo detto prima devono essere prima di tutto aziende che crescono altrimenti finiamo anche noi a fare i cassettisti con ogni anno la solita cedola possibilmente essere esposte in qualche parte all'estero in modo tale da avere un piede anche in un'altra economia che a differenza della nostra cresce devono poi anche avere qualcosa di innovativo scusate se lo dico ma basta con le solite banche tradizionali basta con le solite aziende che fanno pasta non se ne può più evolviamoci un attimino devono essere poi aziende oltre che a essere innovative anche con una visione di lungo periodo che non si limitino a restare uguali fino a quando inesorabilmente non arriverà qualcuno che farà meglio il loro lavoro ma che cerchino sempre di innovarsi e di migliorare pensiamo ai successi italiani sono tutte aziende che sono state in grado di trasformarsi e non di replicare con lo stampino quello che era già stato fatto da altri mi viene in mente per esempio Italy che non è un'azienda vecchissima quindi credo che tanti tra voi la possano conoscere negli anni ha fatto un lavoro incredibile e purtroppo non è quotata almeno per ora e poi chi lo sa che magari un domani intrinseco non si possa quotare in borsa staremo a vedere per oggi ragazzi è tutto ma sono curioso di sentire la vostra voi investite in Italia se sì quanta percentuale del vostro portafoglio mi raccomando poi iscrivetevi se volete vedere altri video del genere perché ve lo anticipo potrebbero esserci video futuri dove si parla proprio nello specifico di aziende e di azioni italiane quindi iscrivetevi qua sotto per oggi è tutto davvero io vi saluto e alla prossima I'm gonna throw my memories away now I feel undone and I am cursed by every day till my time is gone